bentornati su my football jersey scusate la voce ormai sono completamente affono e questa che vedete è la maglia speciale del napoli per halloween come al solito napoli ci regala tutti gli anni maglie sempre diverse e questa è quella di quest'anno no maglia non niente male mi piace più di quella dell'anno scorso di halloween trovate qui in alto la recensione sicuramente fatta bene con tutti i particolari giusti bellissimo questo bordo azzurro della maglia il costo lo vedete qui sopra ecco questo è veramente indiscutibile in descrizione qui sotto trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia andate a vedere perché per i nuovi iscritti c'è anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari quindi il costo diventa ancora più basso ora vi lascio la parte finale nella quale vedrete la vestibilità nel frattempo però iscrivetevi al canale è un piccolo gesto ma che ci aiuta a mostrarvi maglie come questa tutti i giorni per oggi è tutto alla prossima ciao 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 ciao